I numeri nascondono un segreto. La perfetta organizzazione, figlia dell'esperienza ormai consolidata, è una cultura della donazione che qui si sta diffondendo sempre di più. Quella di organi e tessuti all'ospedale Bonomo di Andria, dove solo per le corne i prelievi sono arrivati a 52 dall'inizio dell'anno. Il consenso, quando non è manifestata la volontà del paziente in vita, arriva dai familiari in questa stanza, creata proprio quando viene comunicato dalla morte cerebrale, quindi irreversibile, condizione che permette il prelievo a cuore ancora battente per la perfusione degli organi. Dura sei ore l'osservazione, viene nominata una commissione composta da un neurologo, un rianimatore, un medico legale. Noi forse siamo un po' in controtendenza perché sono quattro anni che ci manteniamo al di sotto del 20% come opposizione sugli organi. Per quanto riguarda le corne stiamo dall'anno scorso e anche dall'anno prima incrementando di anno in anno. Quest'anno pensiamo veramente di raggiungere le 140-150 corne a fine anno e speriamo che possa crearsi in Puglia una banca degli occhi per essere autosufficienti, anche perché noi ci siamo rimboccati le maniche e siamo diventati noi medici prelevatori nella BAT, quindi non necessariamente dobbiamo far ricorso ai colleghi oculisti. Siamo in grado noi di prelevare le corne. Alla vigilia della giornata nazionale dedicata alla donazione di organi e tessuti da Andrea parte un appello. Donare è la cosa più naturale che esista perché costa poco e di fatto avviene dopo la morte.